Ciao a tutti, siamo qui nella nostra sede di Movimento 5 Stelle Fabriano siamo qua perché vogliamo un attimo fare il punto della situazione sulle attività che stiamo svolgendo in preparazione delle elezioni che si svolgeranno a febbraio qui con me c'è Cristiano Pascucci che è presente nella lista per la Camera Serenella Fuxia che è capolista per il Senato nella circostituzione Marche sono io Gabriele Santarelli che sono anche io presente nella lista per la Camera e purtroppo oggi manca Patrizia Terzoni che è terza in posizione nella lista anche lei per la Camera quello che vogliamo fare oggi è cercare di spiegare un po' quello che è stato fatto fino ad oggi e quello che cercheremo di fare da qui in avanti cosa abbiamo fatto fino ad oggi? più che altro quello che avete fatto voi fino ad oggi ci avete permesso di raccogliere numerose firme più di quelle che erano necessarie per presentare la nostra lista alle elezioni abbiamo ricevuto tanta carica, tanta energia stando al banchetto, incontrando le persone, parlando con le persone abbiamo raccolto firme di ragazzi non ancora ventenni fino alla firma di un signore del 1925 ci avete dato una grande spinta ci avete confermato che quello che stiamo facendo viene apprezzato e ci avete anche spinto a far conoscere ancora di più le attività che stiamo svolgendo perché le stiamo svolgendo nel miglior modo possibile per questo ora c'è Cristiano che un attimo ci parlerà di quello che dovremo fare invece da qui in poi allora da qui in poi noi abbiamo pensato innanzitutto di stare in piazza in tutti i fine settimana che ci separano dal 25 febbraio che è la data di chiusura dei seggi delle elezioni di 2013 e quindi saremo in piazza con il nostro banchetto per confrontarci, per incontrare le persone ci saremo noi candidati vogliamo confrontarci vogliamo sentire innanzitutto la vostra energia come ha detto Gabriele e soprattutto nello spirito del movimento vogliamo partecipazione, idee, critiche, suggerimenti anche per inserire le proposte, le idee nel nostro programma che è un programma aperto nel senso che è fatto dai cittadini quindi non è fatto dagli attivisti da solo dagli attivisti del Movimento 5 Stelle ma da tutti quelli che vogliono partecipare e che hanno delle idee da proporre e quindi noi cercheremo di essere in piazza sempre per confrontarci per stare insieme e aprirci alla città e a tutti quelli che vogliono parlare con noi adesso sì Serenella vi illustrerà le prossime attività con molta più dovizia di particolari Ciao a tutti in effetti gli impegni stanno aumentando sempre di più ci incontriamo come ormai stiamo facendo da più di un anno a questa parte tra noi del Movimento 5 Stelle e Fabriano ma ci interfacciamo sempre più spesso anche con gli altri gruppi della regione Marche proprio domenica 13 gennaio ci incontreremo tutti i candidati alla Camera e al Senato per la lista Movimento 5 Stelle circoscrizione Marche faremo il punto della situazione e daremo il via a questa campagna elettorale la nostra intenzione è organizzare quanto prima un evento a Fabriano in cui incontrare tutti i cittadini e presentare i candidati del Movimento 5 Stelle per il Movimento 5 Stelle il momento di incontro con i cittadini è un momento fondamentale da lì proprio dalla base della città delle problematiche della città prendiamo spunto per indirizzare il programma e confrontarci poi anche con tutti gli altri gruppi incontreremo ben presto anche le singole categorie i singoli settori per analizzare meglio le problematiche ed è già in programma un incontro con gli insegnanti per affrontare il problema dell'istruzione e della scuola con questi incontri naturalmente noi cercheremo di implementare quello che è il programma nazionale questo è un po' lo spirito del Movimento 5 Stelle dove il programma viene preparato e organizzato da tutti i cittadini tutti quelli che vogliono proporre e dare il proprio contributo speriamo che con il video di oggi abbiamo un po' chiarito le idee su quello che stiamo facendo sulle energie che stiamo investendo in questa cosa in cui crediamo molto e approfittiamo anche del periodo nel quale stiamo facendo questo video per augurare buon anno a tutti sperando che sia un anno come piace dire noi a 5 stelle e come dice sempre anche Reppe Grillo ci vediamo in Parlamento sarà un piacere a E e passa in e nossa mi Grazie a tutti